Grandi scoperte al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Un intenso lavoro di monitoraggio effettuato all'interno dell'area del parco ha infatti portato alla catalogazione di nuove specie animali che vanno a inserirsi tra le centinaia di tipologie faunistiche già presenti nel complesso. Quest'analisi sul territorio è stata condotta in sinergia con alcune università e istituti di ricerca nazionali per attendere alle disposizioni europee sul censimento delle specie cosiddette prioritarie o a rischio di estinzione. L'attività ricade all'interno della macro area denominata Rete Natura 2000 della quale fa parte anche il nostro parco nazionale. Queste attività di monitoraggio che stiamo facendo hanno messo in luce ad esempio che a distanza di 20 anni ci sono confermate all'interno del parco ben due stazioni di un insetto molto particolare che si chiama rosaglia alpina ed è legato alle fagite vetuste. È stata veramente una conferma interessante a distanza di 20 anni dalla prima segnalazione. In più stiamo facendo un lavoro di monitoraggio approfondito sui chilotteri, quindi diciamo i pipistrelli cosiddetti, che sono specie molto poco conosciute e molto delicate e soggette veramente a rischio di estinzione perché sono legate ad habitat situazioni che sono venuti in qualche modo a mancare negli anni. Anche qui abbiamo fatto due importanti ritrovamenti, una specie che è stata individuata in Val Pramper e mai individuata all'interno del parco e anche delle colonie riproduttive importanti in altre aree del parco che sono state individuate e che quindi adesso sono sotto fase di monitoraggio e lo saranno ovviamente anche in futuro.